Il parco delle Alpi Il torrente a Roscia forma una spettacolare serie di cascate Le cascate si trovano a circa mille metri sul livello del mare e a 40 minuti di cammino dall'abitato del centro di Mendatica Il percorso è agevole ma una serie di frane da ottobre del 2020 lo ha reso più difficoltoso bisogna infatti seguire dei sentieri alternativi Gli ultimi dieci minuti costituiscono forse la parte più impegnativa perché è in salita tra le pietre della boscaglia Interessante è una sosta nei pressi dell'antico ponte in pietra sul rio Gruppin che è un affluente della Roscia Consigliamo di effettuare questa escursione tra la metà di aprile e giugno oppure da inizio settembre a novembre ovviamente per la portata d'acqua della Roscia che d'estate cala notevolmente L'escursione che abbiamo compiuto ha un dislivello di circa 400 metri una percorrenza andata a ritorno di tre ore La cascata è una del... anzi forse è la più alta della Liguria ha un'altezza di 30 metri circa e una larghezza di 15 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti